La prima che si chiama Il Cigno Nero, dico brevemente una cosa, le prime due sono tratte dal libro che uscirà a settembre, mentre l'ultima è tratta dal primo libro che ormai lo pubblicai quando avevo 17 anni. La prima poesia che tra l'altro è l'ultima che si è stata scritta e quindi diciamo andiamo a riproso. Il Cigno Nero, ero seduto sull'acqua e una lacrima saldò per quel mare debole che mi si sporca. Ero deciso a piangere nel Balcanione, a piangere la tempesta, saldizioni l'uomo. Adesso è tutto spento e il pianto s'asciuto, in quello staglio muto di ricordi trasformati. Grazie.